C'era Sagan. Sembrava la? Sì. Ma sembrava. C'erano due? Sì. Due lampre, ma non era... due... liquid gas, ma non era... Cristiano, né uno né l'altro. Peccato. E... E qua sono già finiti, perché adesso non ce n'è più. E qua ce n'erano tre liquid gas. Non l'ho visto. Però non mi sembrava neanche nessuno di tre, Cristiano. No, non ce n'è più nessuno. Perché è ritardato? Perché è ritardato. No. Grazie. 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 Grazie.